Siamo di fronte all'ennesima discriminazione della FIAT e al perdurare della FIAT di non applicare i principi della Costituzione e le libertà sindacali. Hanno annunciato ai 19 nostri iscritti che il Tribunale di Roma aveva ordinato di essere riassunti. Finita la fase di formazione, questa mattina dovevano cominciare a lavorare sulle linee di montaggio e la FIAT gli ha detto che non possono entrare, li retribuisse purché non lavorino e purché non siano sulle linee di montaggio.